buongiorno da obiettivo news oggi 22 maggio santa rita da cascia oggi si celebra la giornata mondiale della biodiversità in questa data nel 1992 le nazioni unite hanno adottato la convenzione per la diversità biologica il termine biodiversità è stato cognato nel 1988 dall'entomologo americano edward osborne wilson per indicare la varietà di organismi viventi nelle loro diverse forme e nei rispettivi ecosistemi seguendo la definizione data dall'ispra la biodiversità può essere quindi definita come la ricchezza di vita sulla terra che include non solo miliardi di specie vegetali ed animali e microorganismi che popolano la superficie terrestre ma anche la complessa interazione tra questi che è la base di tutti gli ecosistemi presenti nella biosfera in altri termini la biodiversità può essere intesa come la relazione tra le diverse componenti che costituiscono sistema oltre che come la somma delle sue parti non a caso la convenzione onu sulla diversità biologica evidenza come la biodiversità sia da intendersi come diversità a livello di specie di ecosistema e genetica ovvero la differenza dei geni all'interno di una determinata specie che corrisponde a sua volta alla totalità del patrimonio genetico a cui contribuiscono tutti gli organismi che popolano la terra grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie